Per il suo canale. Magica YouTube? Sì. Oh, qual'è il nome su YouTube? Matilde Svorda. No, Matilde Svorda. No, Matilde Svorda. Puoi... No. E... Alba è gigante. Fatti seguire anche te, Alice. Alice, fatti seguire un attimo. Palla e dici... sono qui con... Aspetta un attimo che mi... questo invece è un sito appena di fare le quindi spiecken. Ciascari come sensei. vi faccio andare all'Italia così. Ciascari come sensei, adesso faccio faccio. Quanti senti dai? No, la sempre dà domani quando vedi da dormo dai da dormo dai. No, la sempre di dormo dai da dormo! Ciascari, ciao a noi ragazzi! Ciascari, ciao a noi ragazzi! I can almost see it, that you're not dreaming, but there's a voice inside my head.